Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, carissimi sacerdoti, carissimi diaconi, consacrati e consacrate, questo Natale sarà un Natale un po' diverso dal Natale degli anni passati. Siamo ancora in un clima di incertezza e anche di preoccupazione. Tutto andrà svolto e già deve essere svolto tutto con grande serietà e con grande prudenza. Ma forse questo Natale potrà essere più vero, magari un po' meno consumistico, un po' meno turistico, forse potrà essere più essenziale, potrà essere più autentico nella sua verità, più ispirato a quel mistero dell'incarnazione che costituisce l'essenza della dimensione cristiana del Natale. Ecco appunto il mistero dell'incarnazione, Dio con noi, Dio in mezzo a noi, Dio che si fa uno di noi, come dice San Giovanni nel suo Vangelo, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E il mistero dell'incarnazione ci ricorda la grandezza e la dignità dell'umano. Il mistero di Dio che si unisce alla nostra umanità davvero pone il sigillo su quella che è la grandezza, la nobiltà dell'umano. E vorrei proprio che il Natale del Signore e l'Avvento che lo prepara fossero contraddistinti da questa attenzione alla grandezza e alla dignità dell'umano che il mistero del Natale ci ricorda. Mi vengono in mente tre parole che potremmo richiamare e che mettono a fuoco meglio questa grandezza, l'accoglienza, la tenerezza, la fraternità. Ecco, il cammino dell'Avvento e i giorni del Natale mi piacerebbe venissero caratterizzati da questa attenzione alla dimensione umana che viene trasfigurata dal mistero di Dio nella forma dell'accoglienza, della tenerezza e della fraternità. Come vivere allora l'Avvento avendo questa attenzione. Ho pensato a qualche proposta e l'ho anche condivisa con i vari responsabili della nostra pastorale. Per quanto riguarda i sacerdoti, i presbiteri, ecco io chiederei a loro di garantire ogni giorno un'ora di ascolto dentro le nostre chiese parrocchiali o anche altre chiese che siano opportunamente identificate. Dare la possibilità alle persone di un ascolto personale. Un'ora al giorno dentro le nostre chiese nel silenzio davanti al Signore ad accogliere le persone che vorranno venire a parlare, a confrontarsi, a domandare il perdono del Signore. Per quanto riguarda i ragazzi, gli adolescenti, le famiglie, qui d'accordo con l'ufficio oratori sarebbe bello pensare a un momento il mattino di preghiera per gli adolescenti che nella maggior parte dei casi non possono frequentare la scuola, collegarsi e pregare insieme. Un momento serale di preghiera invece per i ragazzi, in famiglia, con la possibilità di un collegamento tra di loro e anche con i propri catechisti. Sarebbe bello pensare in occasione del Natale nei giorni immediatamente precedenti, la visita ai nonni nelle case di riposo con i gruppi di ragazzi, ovviamente stando fuori, ma facendo sentire loro la presenza. E poi raccomanderei tanto l'attenzione ai più poveri, a chi questo Natale rischia davvero di passarlo nella tristezza. Se si organizzerà qualcosa di questo genere, con molta libertà, mi piacerebbe magari nella misura del possibile anche farmi presente. Per quel che mi riguarda io intendo proporre anzitutto la celebrazione mia del sabato mattina ogni settimana presso la Basilica delle Grazie per un affidamento alla Madonna della nostra diocesi, in particolare dei nostri malati e di chi si prende cura di loro, chiedendo a lei il sostegno, l'accompagnamento e poi affidando a lei anche quanti sono particolarmente in difficoltà dal punto di vista economico in questo momento. Vorrei poi proporre il mercoledì sera alle ore 20 e 30 una lezio divina sul Vangelo della Domenica. E infine vorrei visitare alcuni luoghi di lavoro come segno di vicinanza a chi in questo momento è particolarmente in difficoltà. Ricordo infine due eventi importanti. Con l'Avvento cominceremo tutti a utilizzare il nuovo messale romano. Abbiamo pensato a un breve ma significativo rito di presentazione alle comunità parrocchiali del messale all'inizio delle sante messe di domenica prossima e anche a un momento di illustrazione del valore del messale per la vita della Chiesa. Ho chiesto al Vescovo Ovidio Vezzoli di tenere un incontro che verrà trasmesso online venerdì alle ore 20 e 30. E poi con l'Avvento prenderà anche avvio il giovedì presbiterale. Cioè il mattino di ogni giovedì sarà a disposizione dei sacerdoti per la loro formazione spirituale. La celebrazione dell'Eucaristia avverrà sempre alla sera. Sono certo che tutte le nostre comunità sapranno apprezzare questa scelta che va a beneficio di tutto il nostro clero. Ecco dunque vi auguro un cammino di avvento che sia accompagnato e sostenuto dallo Spirito del Signore e che ci disponga ad accogliere con gioia il grande dono del Natale. Vi benedico di cuore.